Ciao ragazzi, rieccoci, siamo nella parte 2 di Trollface Quest Ho... c'ho il registro di fila così da non dover rifare tutto E... eccomi qua, io sono Blowfire, siete nella BlowfireTV E andiamo fermi a questo livello che so, teoricamente, come avete visto nella prima parte del video Del... nel primo episodio appunto di Trollface Quest Che dovrebbe esserci un bottone in alto a destra Siccome il video durava troppo, dopo 20 minuti ho deciso di stopparlo Quindi qua in alto a destra c'è un bottone Comunque continuo a tirare alla mia attenzione tutti questi drink Lo sapete che sono a Blowfire? No vabbè vabbè dai Potevo tagliare anche questa parte, invece ho deciso di far partire il video così No, in realtà, boh, no, l'ho fatto partire quando più mi aggradava Spero di riuscire a premere il bottone perché c'è... Cantasi in mezzo alle scatole Ok Sì, sì, dovrei riuscirci Fermati Oh, ok, ora posso bere tutto Oh, 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 ce l'ho fatta Next Trova 10 Trollface in 10 secondi Oh, no, adesso le premerò tutte Oh, no, 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 non ce la farò mai Ah, effettivamente sì, sono tutte trollface Dov'è? Dove sei? Dove sei, 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 dove sei Ho fallito Riprova Allora Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove La scritta No ragazzi io non la vedo, dov'è Troll Face, dove sei Dov'è No Eccola Iniziava trollando alla fine del livello Ma meno male che me ne sono accorto Una volta che le ho contate Ah c'è il tasto salta Usiamo il tasto salta Tanto questi quadrati sono tutti finti O forse no No erano veri Ok allora boh Ritentiamo Dai zio Muoviti Ora ti darò un nome tipo Lenny Dai Lenny 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 Ce la puoi fare Lenny Lenny Prendi la mira Lenny Ora Ora No non ora C'è il doppio salto C'è il doppio salto No non c'è il doppio salto Wow ce l'ho fatta Ora Lenny Ora 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 E qua in mezzo tra i due c'è ovviamente le punte No ce l'ho fatta forse Quindi mi soltare di nuovo qua Vai Lenny 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 Oh No ho sbagliato Non capisco se è colpa mia o no Sì probabilmente sono stato io che ho sbagliato Scusate Scusate Very sorry Lenny 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 qua Lenny la Lenny no Ora Ehi la Su 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 Atterraggio morbido Ok Ci siamo 3 2 1 Ye 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 5 Che Che E' la seconda volta E non voi non meritate Tutto ciò Low lolo pop ciò andrà pd anna salta lenni mai lenni vai lenni ti cambio nome forse ti porto più fortuna vai john 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 oh yeah e ora quindi devo saltare prima no non devo proprio saltare non devo premere il tasto jump ecco cos'è se non arriva la motosega allora ragazzi bisogna saltare solo due volte pensavo io di essere premuto male cioè che fosse già stato su arrivato al Bernie 하게 da non bisogna saltare sappiatelo lo lo lolo lo 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 lolo ok saltiamo uno due tre sassi probabilmente si lo 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 anche qua bisogna saltare ce la puoi fare ok E il livello No Ho saltato io male Scusate Ragazzi io non so come tagliare i video con Cantasia Anche perché forse Fermo, 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 fermo Sì, 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 doppio jump Jump, jumper Sono un jumper ragazzi Anche perché forse ci metterei tipo Sei volte il tempo Per ritornare allo stesso punto con Cantasia Cioè pronti, dovrei comunque iniziare il livello da capo No, non dovevo saltare Ma questo gioco è troppo trolloso Dai Perché ho saltato, mi hai fregato, mi hai fregato Il bello è che lo sapevo anche questo giro Oh, one Adesso sto attento, eh Non mi faccio mica fregare come quando mangi popcorn Non sto mangiando popcorn Ok, e siamo a due E ora devo solo attendere Probabilmente, eh Sempre che non succeda qualcosa di trolloso anche qua Ok, qua non c'è niente Per ora non c'è niente Secondo sasso non c'è niente Ok, dovrei aver passato il livello Fantastico questo livello Fa tanto ridere È finito Dai Ah, ok Next Uh, un livello musicale Quello blu Perché sono blue fire Ah, giallo, rosso, verde, arancione Oddio Giallo Rosso Verde Arancione E clicchiamo su di lui Sì Bisogna cliccare su di lui Semplicemente Ok Rieccoci Alla trollonic production No, no, no Eh no che non si accende per forza Se cliccassi sui cavi Eh già E mo Accendiamo 3, 2, 1 Ehi Bonjour Au revoir E come on s'a va Ah, sono io adesso che glielo chiedo a lui Ti piacciono i giochi? No, perché spengo il tv? Non devo spengerti Adesso devo cliccare sulla mia faccia Io voglio giocare con te ora Col tv voglio giocare Perché io ho il telecomando Oh, trollonic Dai trollonic Me ne vado E cosa faccio lì? Torno con un Troll face quest complex Play again Or restart Gioca ancora? No, basta Finito E ragazzi Il gioco finisce qua Spegniamo la musica Eeeh Sì Spero vi sia piaciuto Eeeh Lasciate un mi piace Se vi va Eeeh Un commento O Boh Consigliatemi pure altri giochi Mi è piaciuta questa idea di consigliare giochi Eeeh Ci vediamo al prossimo video Dove magari proverò tol face 2 Magari proverò qualsiasi altro gioco in flash Spero si senta bene Un abbraccio Ciao a tutti Bye bye E bye bye di nuovo Ho sbagliato tasto Ciao a tutti